Quinta puntata del nostro vlog sul cibo, ben ritrovati! Quinta puntata da Five Guys Burger Dicono essere il nostro mitico Andrea Pessino, quello di The Order super palestrato Dice di essere il miglior fast food... Sì, il migliore perché ha dei panetti che pare siano ottimi Ma soprattutto da cosa sono rimasti stupiti Il cesto delle patatine fritte Migliaia e migliaia di calorie buttate dentro un sacchetto Così, ma la cosa più particolare non è ancora quella Una porzione larga di patatine, grande, è 1300 calorie Ma andiamo a bere, va! Classica macchinetta americana C'è questo marchingegno qui, incredibile, con tutte le varie cose Questa ti piace tanto? Era una birra, è una birra ditta Vai sulla Coca Zero classica, dai! Che c'abbiamo? Ciliegia, aranciata, maniglia Sperry, lime, limone e cherry vaniglia Io direi di provarla Considerate che per ogni bibita c'è questo genere di opzioni Potresti fare anche un mix, no? Potresti fare anche un mix C'abbiamo cherry vaniglia Mamma mia che merda Però te la bevi tutta? Provane un'altra Orange, secondo me fa ancora più cacare Coca Cola all'aranciata Che cazzo è? Che cazzo è? Guarda Sembrano le tic tac, sembrano i tic tac Mamma mia, solo l'odore del tic tac Dai andiamo a mangiare Vabbè alla prossima Grazie Grazie Grazie